Il Giare si avvicina a tappe forzate alla trasferta di Vittoria. Forse già un esame per i ragazzi di Maurizio Romeo. Ieri al regionale soprattutto lavoro atletico per la squadra, leggero affaticamento per Declò, La Spina e Cordima. Nessuno dei tre però sembra in discussione per la trasferta Iblea di Domenica. Oggi invece si lavorerà più sulla parte tattica al regionale e si capirà come Romeo vuole impostare la squadra anti-Vittoria. Possibile che il 4-2-3-1, modulo abituale dei gialloblu in questo inizio di stagione, si trasformi in un più prudente 4-5-1, dove sulle fasce Massimo Sottile e Giulio Nirelli svolgano più mansioni da centrocampista che da mezze punte. Staremo a vedere anche perché a Vittoria per il Giare sarà la prima vera spida contro una squadra di prima fascia del Girone B di eccellenza.